Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Saluti ragazzi e benvenuti in questo undicesimo episodio della Egglock Sì lo so sto già affrontando Barry perché c'ho mezzo neurone e non funziona nemmeno troppo bene in ogni caso qui con noi c'è Ciao ragazzi sono Tia e ben ritrovati nell'undicesimo episodio della Egglock Ciao ragazzi Tia flash un bologna Ok ragazzi io per sbaglio sono andato ad affrontare Barry In teoria sarebbe dovuto succedere che io avrei detto che cosa facciamo in questo episodio Tia e lui avrebbe detto affrontiamo Barry Poi in realtà io ho un tumore Basta il cane Oddio Ah già cazzo No niente tranquillo Mi saluti il cane Sì 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 Troione muto Mi piace questo saluto Esci di ciao gente Ha fallito due volte di fila Fanghi Chi è morto Adesso morirà qualcuno No genera un turbine muori Ok perfetto Ok Risolto E maschio chi l'ha fatto Aiuto Aiuto Degenerare Un minuto Ottimo Un minuto e dodici di cui 12 secondi per dirci ci sei ci sei Stanto la star muori Stanto la star muori Mi sembra stato Ma grittate ma burnato mi devi fare qualcos'altro Una pompa È maschio È maschio Appunto No minchia No che aspetta di tipo drago che idiota Io ho 9 PS Mi sono cagato In seguimento Ho 2 PS Mi sono cagato addosso per nulla Oddio Tia È finita Comunque l'hai rifata prima Tia è finita Cosa È apparso ambibom Tappati le orecchie Aia Per tutti i cibietti Scusatemi raga È un cult del mio canale Purtroppo C'è non solo del mio evidentemente Oh mio dio Io ho vinto Comunque per mia felina ova Quanto se cance Logino berri Che venisse in casa Un misto di dialettica Un misto di dialetti italiani misti Un misto di italiani Un misto di seguimento Cazzo sei un pedofilo con le 2000 Porco Oh Lascia fare che le 2000 Al prossimo anno Sono maggiorenni Non vale più come battere Ancora oggi no Però anche se a 16 anni Sono legati E' rasta Tecnicamente Dici Però Sì La porta Sto registrando Arriverò dopo Ciao Ok ho vinto Ok perfetto Possiamo proseguire C'ho Absol con 2ps Lol Qualcazzata da buttarti giù Con 2ps Che avevi inseguito Ha tirato un ruoto a fuoco Sotto sole Ma burnato E ma crittato Che bella la vita Sono anche avvelenato Ok Dove andiamo Ti amo Sto cercare Se non raggiungo il centro Pokémon in tempo Ti non bestemmione di quelli Ok Ci sono arrivato Ok perfetto E dove andiamo E' a destra Ok perfetto Cioè a destra Dove se non vuole E' a sinistra No E' a destra Fa niente Da quella parte L'uovo non lo prendiamo Va No no Schifiamolo direttamente Sì 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 Tantissimo Ok Perfetto Noi siamo esperti Di uova In questo Ok Ci sono le catture Da fare Luke 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 Ciao a tutti ragazzi Anzi salve a tutti i reclute Prosegui tu Luke Va bene Va bene Ho solo 4 anni in più In questo momento Però vabbè Oh ma le mega Poni sto gioco Che li hanno rubati E' arrivato E' arrivato Luke E se le portate via Ecco Ok Io sto facendo la cattura Meanwhile E io ho preso Le volte Ah Maggi dai Maggi è catturabile Cheat Cheat Guardano Minchia spennata Con quale Ma io sono la master ball Per magmi Ti immagini che tristezza Catturo magmi con la magmi Ti va presente il meme Dove ci sono i due carcerati Che si parlano E uno fa Ho ucciso un uomo E tu cosa hai fatto Ho cattato magmi con la master ball Ok vediamo io che trovo In quale spazio tipo di Aiga Ok Ok pokemon carbone Rallycant Bello Rallycant Smeraldo non ti trovavi neanche Rallycant uno dei pokemon più brutti Che esistono sulla faccia della terra Fateci sapere ragazzi nei commenti Cosa Ma da cosa che è ispirato Non ho capito Da una casca secca di bucca Ma no Dalla peste bubonica Se non ricordo E l'è E l'è activa Il cazzo Questo fa male No non è vero C'è terremoto Che cazzo dico Muori Tu come sei messo Di stai ancora facendo Zapdos Si sto cercando di Fango sverla E io però Che faccio terremoto Sul sabato Forse devo andare a farmi Ricoverare Perché Non è Cine Ah sabato Che fa cinese C'è il sabato Cinese Il che vuol dire Dobbiamo pre-registrare Come se non ci fosse Esatto Che bello Ne Lo spettacolo Tra l'altro Sto zapdos qua Non ha ancora fatto Una mossa offensiva C'è uno scandalo Della nazione Sto cercando Tentando di buttare Giusto Stiamo diventando Disless Oh ma questo qua C'ha Electiva Zabdos E deoxys Altro Non ce l'ha Magari a regalino Ok Faccio ipnosi Su deoxys Non è Sto coso Pesce De merda Che pesce Relativo Dipende come Dipende Da che punto di vista Lo guarda Oh lei Ce lo fa Madonna Sto allenatore Qua ho messo In difficoltà Che non ho idea Questo Questo verso Fa intubire La madonna Che sto per Vado a prendere Il calendario Tra poco Giuro San Tommaso Dai Ok Stupido Pesce roccioso Intanto io vado avanti Ragazzi ho trovato Slamo buono No Figa So come si pesa Dio buono Sono un pescatore Probetto di vagina Vai via No Entra sto coso Dio mio Lo sto per chillare Giuro che lo sto per chillare Ragazzi mi sto divertendo Io fareste serie Sì ma io ci metto Dieci minuti A far questo Eh ragazzi Purtroppo Ci sono Alcune persone Che in dieci minuti Fanno altro E Ci sono persone Che Quell'ambito Duro di più Esatto Come dice un famoso Sfortunato con Relicant Fortunato con Lacanth Che in inglese Vuol dire figa O non entra Cioè odio in inglese Tecnicamente vuol dire Fighetta Che sarebbe Tipo l'insulto nostro Però sti cazzi Non mi interessa Ragazzi Non entra Che caccerità Questo pesce O ragazzi Durerà anche tanto Però se tia non entra È un problema E porco cane È stato più facile La prima volta È entrato Bravissimo Tia Una qualità allucinante Facile di questo fast play 20 ball Per sto coso Ridatemi soldi È fantastico Raga Veramente Ok Ho battuto le gemelline Tia Io devo tornare indietro A curarmi Perché A furia di usare Copione Perché c'è una cosa Che sa fare Copiare quel Cacro Sbattuto le gemelline Possiamo proseguire Raga qua Tipo Fandelo Allora Quando dobbiamo fare Tipo Il fanny montage Dovremmo fare Tipo Fanny montage Poi fai Il pedo montage Poi fai Il bestemmia Morte Sulla tua faccia No lo faccio Sti cazzi Non mi permesso Di utilizzare La tua face Prendo pedo Biar Questo è il mio video Però vero Sì Che poi Non mi serve Neanche il permesso Perché sono Personaggio pubblico Sì Infatti Puoi Puoi farlo A prescindere Ma questo qua È Il mio video Sì Ok Perfetto Gran Questa 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 La parte Migliore Del commentary Sì Perfetto Ho perso Ho perso 7 minuti A catturare Un re Elegant Ok Lugia Lugia contro Serena Vai muori Come Lotta Quasica Lotta Quasica Esatto Non lo dirò Sto per dire un'altra cosa Non la dirò Off camera Ne parliamo Con quel togno Il togno Iro pompa Grodon Perché non si può vedere Ok perfetto Spiritomb a 3 cm dal pozzo memoria Mi piace sta cosa Vediamo di schiattare tu figliolo No wait Porco demonio Ma congelato Raga No 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 Questi sono gli effetti 40 ps Questi sono gli effetti di registrare Tre video di fila Poi ne dobbiamo registrare altri due magari Allora Perfetto Io sono quasi arrivato a Flemminia E' beato 3 Io sono ancora il primo allenatore del percorso Eh La prossima volta non catturi il relicant La prossima volta tipo lo ammazzo No male Mi sono incazzo Tra l'altro siamo già quasi a 10 minuti E quindi Sti 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 Cosa vuole imparare Calcio rullo Ma baffanchi Di calcio Stava imparando nuove lingue nel mentre Ho visto Calcio Che dice facciamo la cattura la torre memoria Anche Aspetta schifo gli allenatori Come se non ci fossero domani Gemellini infami Gemellini senza un occhio Perché a mia non ha un occhio Mettito zoom ti prego Ora ce l'ha Ora non ce l'ha Che cazzo Ok Va bene così Va bene così Dragospiro Adesso è scomparso all'altro Eh no Ti stavo dicendo Facciamo la cattura anche alla torre memoria Sì dai Entriamo Facciamo la cattura E gli allenatori si attaccano alla ciolla Sì Anche in pratica Anche anche in pratica per fortuna Zampillo Muori Quindi tu puoi Io tecnicamente sì Nonostante il gemellino Tipo sei anni Io tecnicamente sì Ok ho scampato tutti gli allenatori del percorso Come se non ci fosse un domani Che ignoranza Quest'uomo Per l'ennesima volta Mi stavo per schiattare Rotom Ma è sopravvissuto Quel Rotom Purtroppo Sto scherzando Tu che mi hai fatto Rotom Però tipo Tipo raga Adesso Sto arrivando Al momento in cui vorrei Che mi morisse qualche Pokémon Perché non Basta Cazzo Non ho trovato la gemellina Ho trovato la coppietta Non posso Team Team Porca troia Adesso magari mi fa anche l'offerta Mentre combatto Team 3 giga No Uno spinner Altro che 3 giga Sto impazzendo Sto impazzendo Sto impazzendo Però non dite che non è bello Cioè Non è spettacolare Sto sei riparato Figa Non hai vista No Veleno gas L'unico gas Che ti meriti E Questa la censura Però è mio Il video Non ho capito se hai fatta Le rovine O sopra No Alla torre Lo fatta La torre Alla torre Che cazzo è la torre La torre memoria Quella che città sotto Che città sono diventato siciliano Sono qua No Sono schippata Sto andando le rovine Ma come le schippate Fradeo Torno in direto Sbagliato Un po Entriamo Facciamo la cattura Poi schiudiamo I nostri due uovi Come direbbero Questa torre L'unico siluro Che conosco Quello che entra Tra le gambe di serena Che non è il tuo Però Ovviamente Ok vediamo Chi trovo Ho trovato Ho trovato altre bacche Dal nome compromettente Sai a cosa mi riferisco Io non ho Baccafico Attenzione E quindi E quindi Cattura Questo mi usa pazienza Ok vai Inizia a schiudere le uova Io entro Faccio la cattura No no Cioè no Qualcuna l'ho Però devo tentare di indebolirlo A punto tale Ok cattura Attenzione Cicorita Lo catturo Nel 45 Anticristo Clefere di usare Libera energia E fallisce Cioè Sporano Stare tranquillo Mentre Oddio Ha un ps L'ho crittato Magnitulo 5 Se non lo catturo Tra l'altro Cristo A livello 18 Sto selvatico Ma seriamente Altissimo Oddio Ho 7 bold Ce la potrei fare L'ho catturato Ok Non entra neanche per sbaglio Non entra neanche per sbaglio Sto cicorita Figurano In questo episodio Non riusciamo a far entrare Eh Porco Spora 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 Questo episodio Non è molto Family friendly Spora Tua madre Tua madre In Cambogia Muore Non l'ho preso A meno che io Non voglio utilizzare La massa E boll contro Sto tumore Ma evitiamo Ok Io prendo Tutte e due I pokemon Insieme Sto Sto Chiedendo Mi Rovi Queste Queste Stata Arre Queste Stata Arte L'ultima Non ho Fatto Posta Giuro Quanto Devo Vi fare Per Tutto Per I Family Friendly Tutto Mi Pardo Questo Ok Io Prendo Il mio Uovino Da Scrivano Solo Uno Sia Tra l'altro Non ha Liberato Sto Cosa Via Sfigato E Vinchia A meno Che Non usassi La Mostra Master Per Cicorita Però Non mi Vanno Mi Andava Io L'avrei Usata Io Poi La Buona E Cicorita Ma Basta Che Chiamati Asce E Poi Nei Comenti Celi Ci Parli Tu Con Quelli Li Blocchi Direttamente No Se Schiuso Dopo Un Passo Che Cazzo È Questo Questo Sarà La Sparoli Io Mi Signo Un'altra Serena Io Piango Vabbè Dai Questa La Chiamo Lucinda Se Femmina Lucinda E vabbè C'è tutte le Waifu Me ne lasco Alcomila Lusilia La Scusate Dopo Passi Chi È Come Buono Teddi Ursa Ci Stanno Bello Teddi Ursa Lusica Perfetto Tipa La Chiamolilia Ma Tra l'altro Oddio Aspè A Bello Taddy Ok Sia Che Live Che Livello Di Tristezza Livello 16 Poi Mai Per Quello Che Non Mi sto Liberando Vabbè Io Sti Care Perché Lo Faccio Subito Quindi Faccio Dopo Tanto Magari Alcuno 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 Cosa Ho chiamato Teddi Ho scritto Tetti La Tegola Della Sguarda La Tegola Della Sguarda La Lascia Così E La Tegola Della Squadra Questa O Io gli faccio Lo stesso I denti Come un set Di serena Per non fare Differenza Altrimenti Poi mi insulta Sindofag Quartagia Inconfirmed Tutto Quartagia Inconfirmed Ok Tra l'altro Sai cosa Non ho fatto Io forse Non sono andato Vedo Come strumento Alla Master Questo Uovo Cosa Perde lo strumento Mi sa Prova Prova Toglierlo Eh Non posso Dall'uovo Che C'è Solo info E ordina Che Aspetta The box Posso farlo Aspetta Io Questo Togetic Dovrei Devo Liberarlo Perché L'uovo L'ho Già Preso Era Merda Forse Che cazzo Era Oh Dal box Posso farlo Ah no Aspetta Un uovo Non può tenere Uno strumento Però ce l'ha Segnato Io Sono un coglione Tipo Ho fatto un po' Di confusione Adesso devo far salire Anche lui Al Al 16 Ho fatto un po' Di confusione Perché devo far salire Un altro po' Con al 16 Che non avevo mai fatto salire Tipo Il secondo Rotom C'avevo un Togetic A caso Nella Che dovevo Liberare Questo è leggendario Gio Sappilo Perché mi si sta Scriudendo da un'ora Non c'è il dubbio Scriudersi Però Ti dovresti Scriudere Amore mio Oh Eccolo Amore Ciao Se non è leggendario No Che coglione Ho fatto salire Un po' Che ho fatto salire Bosch Al 23 Al clickbait Cos'è Archeas Aia Comunque raga Scusatemi Non so se avete visto Però ho fatto salire Per sbaglio Bosch Con una caramella rara A livello 23 Che 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 Anziché allenare L'altro Rotom Scusa Ho sbagliato Rotom Che schifo Citta Ho sbagliato Che schifo Io mi disiscriverei Fatemi vedere Moveset Di sto cosa Che manco L'ho controllato Ma io non sto controllando Moveset Da 2010 Non anch'io Quindi nulla ragazzi Per il prossimo episodio Mi Ficco una sta in culo Per Sopprimere Questo Ti piace Eh ovvio Ho mai detto Ho mai Ho mai asserito Il contrario Ha asserito Lo sapranno Sei persone Saranno Quelli che capitano Sul video Per bannarlo Per il family friendly Che andranno I termini Giudizio Terremoto Extra rapido Baldiare Arche a scombre Il bird È bellissimo Eh dobbiamo concludere Il video Vai vai Quindi ragazzi Siccome questo video Stava già durando troppo Noi vi diamo appuntamento Al prossimo episodio Sul canale di Tia Non c'è ancora morto Nessun po' Che non sono terribilmente Amareggiato Per tutto ciò E nulla Spero comunque Che per l'appunto Il video vi sia piaciuto Noi speriamo Che il video vi sia piaciuto Se così Vi invitiamo Come al solito Lasciate un commento In descrizione Al canale Per rimanere sempre Aggiornati Sui video Che usciranno Sia mio Che quello Di Tia Io sono un rapper Professionista Premete la campanella Per ricevere Ogni giorno I feed Passate dai social Come al solito Tia Perché devono passare Dai social Lo sappiamo Per sapere cose Ambigue su di noi E vedere immagini Pedo di Gio Appena raggiungo 250 mi piace Sulla pagina Facebook Lascio foto Hard di Serena E a 500 Mi piace Faccio un Trisome Con Serena Lusinda Poi fanculo Metto in fico Greninja In questa Roma Lo chiamo Asche Vaffanculo Con la lingua Sai che è bello Detto ciò Noi ci becchiamo In un prossimo video Ciao Rai